Una Ferrari rosso fiammante, diverse altre auto di grossa cilindrata, decine di Rolex, ville con tanti. Finanzieri di Bolzano con i colleghi di Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza, Milano e Roma hanno notificato oggi 18 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone indiziate dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode di IVA intracomunitaria al riciclaggio e all'autoriciclaggio. In provincia di Padova sono state arrestate quattro persone a Polverara, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova e San Giorgio delle Pertiche, due invece a Vicenza. La mente della frode milionaria, due imprenditori di origine padovana che avevano costruito il loro business attorno ai prodotti da cancelleria e per la stampa. Le indagini eseguite dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria iniziano nel 2020. I prodotti sono venduti a prezzi troppo competitivi. L'attività fa emergere l'esistenza di un'associazione a delinquere costituita da oltre 30 indagati che, avvalendosi di un reticolo di società dislocate prevalentemente nel Triveneto e numerosi paesi dell'Unione Europea, curava l'importazione in Italia di questi prodotti, sistematicamente omettendo il versamento dell'IVA dovuta. La frode, quantificata dalle fiamme gialle sotto la regia dell'European Public Persecutor Office, ammonta 58 milioni di euro. Gli indagati avevano attribuito la titolarità formale delle circa 30 società coinvolte nella frode a compiacenti teste di legno. I soldi ricavati erano nascosti in una società cassaforte investiti in beni di consumo o riciclati soprattutto nel settore turistico, con l'acquisto di immobili da affittare, ristoranti da gestire o addirittura con l'acquisto di criptovalute.